Buongiorno, vediamo oggi cosa ci dice l'oroscopo. Arriete, sembra quasi che tutto il mondo ce l'abbia con voi o cerchi di tradirvi, ma a tempetuoso potrebbe strappare anche qualche litigio con persone care. Toro, la distrazione è in agguato e potreste avere qualche dispiacere. Gemelli, amerete stare tra la gente, novità piacevoli. Cancro, c'è qualcuno che vorrebbe tornare a starvi vicino, ma non ha il coraggio per farlo, un suo ritorno potrebbe ridisegnarvi le giornate. Leone, venere vi porta a spasso tra i sogni, alcune novità importanti in fatto sentimentale. Vergine, qualcuno con voi non è sincero, non scacciatelo, ma usate prudenza e siate circospetti. Bilancia, ottima giornata per guardarsi dentro e scoprire i lati del carattere da migliorare. Scorpione, oggi è richiesta una speciale attenzione da parte tua, cerca di non distrarti in tutto ciò che farai. Sagittario, poco a poco vi sentirete più sicuri e affidabili. Capricorno, contate fino a 10 prima di arrabbiarvi con una persona. Acquario, oggi potrebbe essere davvero una bella giornata se non fosse per quella parte del vostro carattere che si rifiuta di aprirsi agli altri e di condividere con loro le emozioni. Pesci, il lavoro non va in tutti i sensi, ma siate costruttivi e positivi. Questo è tutto, a domani con il prossimo appuntamento dell'oroscopo.